bene a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro video come al solito io sono Gavri io Birillo oggi andremo a far rivedere il nostro nuovo liquido va Birillo facci vedere Allora il liquido 50 e 50 della Valkyria il Kraken un tabaccoso e poi c'è dell'altra robina dentro Allora al suo interno c'è tabacchi ci sono Pueblo in Virginia e Latakia e poi c'è caramello noci e whisky una bomba 20 ml a nicotina zero ora andiamo a fare la prova di swap a tirare qualche conclusione su questo liquidozzo da guancia preso da svapu caffè ricordiamolo maria di carara molicciara della spezia andatela a trovare ora facciamo la prova di swap e tiriamo qualche conclusione a nostro cosa ci sentiamo noi te nella crea e lo speed revolution io nella WT in box 75 DNA con lo strike 18 tira fuori un po' più dolce qui e lì tira fuori un pochino più secco il tabacchi un pochino più tavolo qua si sente un pochino più dolce va Gabriel intanto che si sente bene il tabacchi si sente bene il tabacoso io ci sento molto il tabacoso e il whisky gli altri non ci sento tanto no un po' di noci qua tira fuori e anche un po' di caramello il tabacoso molto blando però un liquidozzo anche il whisky si sente bene con lo strike 18 lo tira fuori bene un buon liquidozzo si poi dopo un po' si sente un po' il tabacoso però non subito è un tabacoso è un tabacoso molto dolce diciamo buono perché fuma magari Virginia magari che è amante dei tabacchi dolci ci sta ci sta bene uno smile molto che voto ci dà questo liquidozzo? ci dà un sette un sette da all day lo carichi nella bocettina lo spuonchi si ci sta ci fa passare la giornata tranquillamente si si allora dalla tabella dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e su facebook iscrivetevi al nostro canale vi aspettiamo ciao